La tanto annunciata crisi economica causata dalla pandemia inizia a farsi sentire, e sono sempre di più, le saracinesche che vengono abbassate in attesa di un periodo migliore. Anche a Milazzo c'è tanta preoccupazione a parte dei commercianti che aspettano impasiente un ritorno alla normalità. L'associazione Amiamo Milazzo, a nome di tutti i possessori di partita IVA, ha chiesto un incontro con l'amministrazione comunale. Noi riteniamo che è comunque, a prescindere dal sostegno da parte del Governo centrale, ci sia la necessità di provvedere anche a livello locale con l'aiuto dell'amministrazione comunale a risolvere e in qualche modo sostenere le partite IVA, in particolare tutto il settore della ristorazione dei pubblici esercizi che in questo momento sta soffrendo forse anche più di tutti. Che cosa chiede dall'amministrazione? Nel nostro comunicato chiaramente chiediamo un tavolo di concertazione per ragionare insieme con il sindaco, con tutti gli assessori o comunque gli imprenditori, anche un tavolo di concertazione per vedere se ci sono le possibilità per cercare di sostenere le partite IVA, come ho detto prima, sotto il profilo dei tributi, quindi un abbassamento dei tributi, cercare di avere un bonus affitti, luce, gas. Insomma tutte quelle iniziative che in qualche modo possono in maniera, come dire, in maniera anche sostanziale dare un sostegno alle nostre partite IVA, alle attività, ai negozi. Una crisi che per dire la verità era già presente prima e i commercianti hanno cercato sempre di arginarla, ma ora c'è un avversario in più da affrontare che non dà certezze l'aumento delle vendite online un macigno per tanti negozi. Chiaramente in città è sotto gli occhi di tutti che si vede un calo di… perché noi dobbiamo dire una cosa chiara, noi abbiamo sempre sostenuto e sopportato la crisi perché comunque nel nostro settore l'evoluzione della grande distribuzione, dell'online, la città e il negozio fisso trova sempre delle difficoltà, ma l'abbiamo sempre sostenuta. Adesso c'è una cosa in più che è il Covid che mette nella situazione di tutte le attività ad avere una maggiore, come dire, negatività.